No al processo contro Matteo Salvini per il caso Nave Diciotti. Un no arrivato senza sorprese anche dalla giunta delle immunità del Senato. Ora la parola aspetta l'aula di Palazzo Madama, che dovrebbe pronunciarsi intorno al 20 marzo. In aula il ministro dell'Interno potrebbe correre qualche rischio in più. Maggiori potrebbero essere i dissidi fra i pentastellati, che invece in giunta hanno votato compatti, come da indicazione emersa dal popolo a cui si erano rivolti, cioè dalla piattaforma Russo, dove lunedì 18 il 59% di 52.000 persone ha votato contro il processo al ministro. Secondo i 5 Stelle, insomma, gli elettori con esercizio democratico, lodato dal vicepremier Luigi Di Maio, hanno indirizzato il partito, decidendo che l'azione per cui Salvini è indagato dal Tribunale dei Ministri di Catania fu un atto nell'interesse dello Stato e non un sequestro di persona nei confronti dei 177 migranti a bordo della nave militare 18, a cui fu impedito di sbarcare lo scorso agosto. In giunta i voti contrari all'autorizzazione a procedere sono stati 16. No, anche dal presidente Maurizio Gasparri, come annunciato. Sei voti invece a favore da PD, Leo e Gregorio De Falco, ex 5 Stelle, ora gruppo misto.